Grazie Presidente, colleghi consiglieri intendo con questo intervento motivare il mio voto contrario espresso su questa delibera di variazione di bilancio nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 20 maggio scorso. Io ho ascoltato con interesse gli interventi che mi hanno preceduto, in particolare l'ultimo e credo che ci siano le risposte. Allora la mia posizione è stata ovviamente condivisa anche con il gruppo consigliare di cui faccio parte e si basa innanzitutto su motivazioni non formali ma sostanziali, ossia il rispetto delle regole e delle normative vigenti per l'appunto, che sono molto chiare sul punto, in particolare l'articolo 7,2 del regolamento contabile del Consiglio regionale stabilisce che, richiamato anche nella delibera dell'Udp, in caso di necessità ed urgenza le variazioni di bilancio possono essere deliberate su proposta del Segretario generale o dei direttori generali dall'Ufficio di Presidenza all'unanimità e comunicate al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla relativa deliberazione, qualora manchi l'unanimità delibera appunto al Consiglio regionale. Nella documentazione tecnica accompagnatori della delibera non ho riscontrato alcuna motivazione che possa supportare in modo adeguato il requisito dell'urgenza che, secondo appunto il regolamento vigente, deve obbligatoriamente sussistere per dar modo all'Udp di deliberare variazioni di bilancio comunicandole successivamente al Consiglio. Inoltre faccio presente come la relazione accompagnatoria della delibera dell'Udp non fosse firmata da un dirigente e non contenesse un livello di dettaglio minimo dovuto per trasparenza a questa operazione, ossia almeno un elenco dei consiglieri e dei relativi importi stimati per la liquidazione del trattamento di fine mandato e del riscatto dei contributi previdenziali. Capisco che la trasparenza amministrativa sia un concetto fastidioso, prima ancora che difficile da comprendere per molti dei politici qui presenti e dei dirigenti della pubblica amministrazione italiana, ma a noi sembra grave che siano negati questi dati perfino ad un membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia. Infine, anche se le due questioni sono separate dal punto di vista contabile e amministrativo e siamo in presenza di obblighi di legge, faccio presente come questo Consiglio dovrebbe anche interrogarsi sull'opportunità politica di erogare le ingenti somme di cui si parla ad ex consiglieri quando nello stesso momento molti di questi sono chiamati dalla Corte dei Conti al pagamento di danni irariali per la vicenda dei rimborsi contestati per spese personali e non di mandato. Per queste motivazioni, in particolare la prima, quindi ho espresso voto contrario in Ufficio di Presidenza, dando quindi la possibilità direttamente al Consiglio di esaminare la delibera ed esprimersi su di essa. Per queste motivazioni, in particolare le ultime, preannuncio voto contrario del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Grazie.